Benvenuti a tutti sul sito qua di One Channel una testata online nuova, 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 frizzante, bellissima abbiamo tantissimi argomenti con cui parlare, sviscialare con voi che ci seguite parleremo di viaggi, musica, cinema e tanti, tanti, tanti argomenti seguitici, seguitici e avremo anche lei, Ketty Caraffa che ci parlerà di argomenti particolari, vero Ketty? Certo, grazie Andrea per questa bellissima avventura che è ripartita a gennaio in un modo anche più particolare e interessante perché tratteremo appunto di eventi parleremo di social, parleremo naturalmente anche di sociale e infatti per quello che poi siamo, diciamo così in questo momento in questo contesto molto particolare, di questo anno anche particolare e quindi insomma tanti auguri a noi per questa nuova avventura naturalmente con One Channel ci potete seguire sul web con tantissime novità, qui comunque le andrete a leggere no? Certo, assolutamente, ricordiamo che One Channel in collaborazione con One Channel abbiamo la Studios e la B&D Production ha con me delle bellissime modelle, delle ragazze stupende Chiara e Federica qui con noi dove chiunque potrebbe realizzare il suo sogno di realizzare uno showreel, dei bellissimi scatti fotografici e anche perché no, una produzione video ma non solo, noi siamo aperti anche per i casting, organizzatori di eventi insomma tante cose, seguiteci e cliccate, cliccate, cliccate e dateci fiducia da Andrea Evans, Federica, Chiara e Ketty One Channel www.onechannel.it Ciao!